Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo appuntamento in diretta con Lombardia Notizie Online. Ci collegheremo subito tra pochi istanti con la sede dell'unità di crisi della regione Lombardia di Areu dove con noi ci sarà il collega Davide Bertani per un collegamento con un gradito ospite Guido Bertolaso, coordinatore per la campagna vaccinale nella nostra regione. Diamo dunque la linea a Davide Bertani per ascoltare questa intervista. Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Lombardia Notizie Online. Oggi abbiamo il nostro ospite Guido Bertolaso, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Oggi festeggiamo un anniversario perché proprio un anno fa Guido Bertolaso veniva nominato coordinatore della campagna vaccinale Lombarda. Dottor Bertolaso, possiamo fare un bilancio di questo primo anno? Ma è stato un anno sicuramente molto importante, è iniziato in salita, poi nel corso dei mesi abbiamo dato un metodo al lavoro, abbiamo definito quelli che devono essere i centri dove si devono vaccinare tutti i cittadini della Lombardia, abbiamo scelto i grandi centri rispetto a tante strutture parcializzate sul territorio, abbiamo quindi concentrato, abbiamo potuto anche avvalerci della disponibilità di poste italiane che ci ha messo a disposizione il loro sistema delle prenotazioni che ovviamente è stata una svolta importante. E poi abbiamo lavorato giorno e notte, quando si fatica, quando si suda, quando ci si impegna al massimo poi i risultati vengono sempre. Dopo un anno, l'abbiamo letto anche oggi su Un Importante Quotidiano, i numeri raccontano un'altra storia. Sì, che la Lombardia è diventata di fatto la locomotiva d'Italia e che anche in Europa ha dato prova della propria capacità, dell'efficienza e dell'organizzazione anche della Lombardia. Oggi i dati internazionali ci dicono che abbiamo superato il numero di vaccinazioni l'Inghilterra, Israele, la Danimarca, il Portogallo, tutti i paesi che erano stati indicati come i migliori, i più importanti, più avanti nelle vaccinazioni. Lombardia e l'Italia, soprattutto, hanno invece fatto vedere che quando ci organizziamo e quando facciamo squadra sappiamo sicuramente lavorare molto meglio di tutti gli altri. 23 milioni di dosi somministrate in un anno, con una percentuale ogni 100 abitanti altissima. Sì, esatto, che è in qualche modo superiore a quella che è la percentuale di Regione Lombardia in Italia da un punto di vista dei cittadini, di quelli che ci vivono e quindi è sicuramente un altro dato significativo. Abbiamo in certi mesi superato 3 milioni di vaccinazioni, come è successo lo scorso mese di luglio, ma anche questo gennaio che è appena finito siamo arrivati anche a quota 3 milioni di vaccinazioni, facendo quindi un lavoro straordinario, più di 100 mila vaccinazioni al giorno. È stato davvero un lavoro di squadra che è stato reso possibile ovviamente dalla grande disponibilità di tutto il personale medico, infermieristico, gli amministrativi, di tutto il lavoro delle ATS, della SST, della DG The Welfare, ma anche della protezione civile regionale, dei volontari che hanno dato la loro disponibilità giorno e notte, dei sindaci, di tutte le realtà di questo territorio che hanno saputo fare squadra. Si parla tanto in questi giorni di orchestra, ma l'orchestra Lombarda quest'anno ha veramente suonato una sinfonia meravigliosa. Possiamo guardare con più fiducia al futuro? Sicuramente sì, siamo in diruttura finale, in termini aeronautici si dice che siamo in corto finale, perché ormai la situazione più difficile, più complicata ce la siamo lasciata alle spalle, ma ripeto, l'abbiamo lasciata alle spalle perché a dicembre e a gennaio si è lavorato in modo strenuo per riuscire a vaccinare di fatto 6 milioni di Lombardi in poco più di due mesi. E quindi significa appunto che quando si lavora e si impiegano i vaccini nel modo giusto, si riescono anche a fronteggiare quelle che sono le epidemie peggiori. Facciamo un paragone calcistico, Lombardia non solo da Scudetto ma da Champions League? Sicuramente, alla vigilia di uno spareggio decisivo a marzo per andare ai mondiali, la squadra Lombarda sicuramente questo spareggio lo avrebbe stravinto alla grande, come appunto siamo riusciti a fare, ma perché è stata veramente una squadra meravigliosa. E in questo contesto non possiamo dimenticare appunto tutto il contributo che ognuno dei cittadini ha dato a questo lavoro, impegno dall'ultimo fino al vertice che ha sempre supportato al massimo tutta la fatica che abbiamo portato avanti. Dottor Bertolaso, da quando è scoppiato il Covid lei non si è mai fermato. Prima ha costruito un ospedale, poi è venuto a vaccinare. Già qualche mese fa ha lanciato un'iniziativa di solidarietà importantissima iniziando a vaccinare in Sierra Leone. Cosa vede nel suo futuro? Vedo ad esempio le puntate dei prossimi giorni di Sanremo dove spero che Fiorello faccia il bis rispetto a quello straordinario spot che ha fatto ieri, che magari è sfuggito ai più a Sanremo, ma invece questo è il modo per fare la comunicazione giusta e anche in qualche modo per smitizzare quelli che continuano ad avere le prime pagine perché non si vogliono vaccinare. La battuta, il gesto che ha fatto ieri Fiorello in diretta in margine avanti a più di 10 milioni italiani è il modo migliore per confermare che bisogna vaccinarsi e non bisogna dar retta a quelli che sono perplessi o che hanno dei dubbi. Io spero che in questo paese il gesto di Fiorello possa essere imitato da quelli che come lui sono capaci di trasmettere, di fare notizia e di comunicare nel modo giusto. Per quello che mi riguarda il lavoro che abbiamo fatto è stato molto interessante, sono grato a Letizia Moratti e ad Attilio Fontana per avermi dato questo privilegio perché tale lo considero e io sono a disposizione della regione Lombardia e del nostro paese. Stiamo vaccinando in Africa, sarà una lotta dura, complicata e lunga e quindi sono a disposizione anche per migliorare ancora quello che stiamo facendo pure in Africa. E anche per oggi è tutto, grazie per averci seguito, continuate a farlo sul nostro sito www.lombardianotizia.online e sui nostri canali social. Arrivederci alla prossima!